Per un disegno fine, l'organizzazione dello spazio e una luce che avvolge armoniosamente l'insieme vince il primo premio Mario Ippolito. Un premio che ha sempre amico. Complimento. Complimento. Io sono contenta perché è sempre stato un premio che non ha professionato. È sempre la giuria che decide queste cose. Il suo quadro è l'acqua. Eccolo là. Eccolo là. Ecco. Ok. Grazie. 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 Ci sono i libri per il nostro premio di poesia. Revasione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.